volete la sportività e auto smile vi soddisfa con questa bellissima usata una ford focus 1500 turbodiesel la tdci 120 cavalli ovviamente il 5 porte st line bellissima e con poco più di 73 mila chilometri turbodiesel ovviamente la fortuna di questa vettura che essendo un 1500 turbodiesel una vettura molto economica da mantenere i vetri posteriori oscurati cerchi in lega da 17 pollici oscurati molto molto bella con questo abbinamento bianco gli altri colori scuri sensori di parcheggio posteriori in abbinamento alla retrocamera per dei parcheggi ottimali veramente bella poi molto bello anche questo spoiler maggiorato voi guardate come tenuta di carrozzeria anche se una 5 porte un segmento c è un bagagliaio veramente capiente con sedili posteriore sdoppiabili ruotino di scorta e l'interno parla veramente di sport con queste cuciture rosse tre persone dimensioni abbondanti stanno comode sul divanetto posteriore e poi si entra nel posto guida guardate anche sedili di guida come tenuto bracciolo questa focus è incredibilmente bella vetri elettrici anteriori e posteriori con i specchietti regolabili elettricamente e richiudibili basta schiacciare questo tasto sedile regolabile in altezza come il volante retrocamera comandi del computer di bordo del viva voce bluetooth volante in pelle climatizzatore cambio manuale se rapporti questa vettura è dotata anche del caricatore wireless poi navigatore satellitare in questo bellissimo sync collettore cd mp3 e usb come potete vedere ci sono tutte le varie configurazioni sia del telefono navigazione e le app appunto per il vostro smartphone e poi il cuore pulsante il 1.5 turbodiesel a 120 cavalli il duratoc di ford guardate che capolavoro di ingegneria riassumendo questa focus 5 porte anno 2017 con poco più di 73 mila chilometri vi aspetta qui da noi in auto smile comunque ricordatevi sempre di contattarci prima di passare così sarete certi che la vettura sia ancora disponibile vi aspettiamo noi e questa bellissima for focus st line quindi Grazie a tutti.